Si è svolta sabato scorso l'ultima tappa delle 21 del Jaguar Land Rover Golf Challenge, un evento che per la prima volta ha visto riuniti i due brand in un unico torneo. Il Challenge è caratterizzato da un monte premi sempre più ricco, scenari incantevoli e ovviamente l'emozione di poter provare i modelli delle due gamme. L'appuntamento è per la finale nazionale che si svolgerà il 27 e 28 ottobre presso il Golf Club San Domenico in provincia di Brindisi.